Pugniamo un'idea di futuro, diverso, tranquillo, fondata sulla sicurezza, sul lavoro, sulla dignità e non sulla precarietà, quindi tra 15 giorni di Casini, di Renzi, della Lorenzin, della Boschi, della Valdrini, arrivava poca traccia. Botta è risposta a distanza di poche ore anche con il presidente della regione Stefano Ponaccini, che ha definito un'offesa ai cittadini dell'Emilia Romagna, le critiche espresse a Mirandola, nell'area del credito... Io ce n'ero. ...sulla gestione post-sisma del 2012. Molto di quello che è stato fatto è stato fatto grazie ai cittadini, grazie al lavoro dei privati, grazie ai contributi dei volontari. Non certo per intervento dello Stato o degli enti pubblici, però, ripeto, Ponaccini risponde ai cittadini che gli pagano una stipendia. Oggi molti di questi cittadini, a Mirandola, a Maradona, nel ferrare, nel cratere, si lamentano il fatto che dopo 5 anni ancora aspettano soldi, aspettano i contributi, aspettano i corsi, aspettano la casa, aspettano l'azienda. Quindi lui ha pagato per darli, ha lasciato questi 5 anni cosa che fa.